Faro pesce Ma basta! Tutti che mi dite Kat vai su Brookhaven Ma cosa si fa su questo Brookhaven? Mi sono entrata in live insieme a voi E oggi cercherò di capirlo un po' di più E di conoscere un po' i player che lo frequentano Prevedo già il delirio Benvenuto a Brookhaven Sono le 22.47 Però quale miglior momento della giornata Se non la sera per esplorare un gioco che non conosci? Ho appena scoperto che ci sono I sotterranei della metropolitana Ma si possono usare? Non è vero Ah! Sono partita! Oh yeah! Stiamo uscendo la metropolitana È la cumbia della noia Perfetto siamo arrivati Vediamo dove siamo Ho molta paura E ci abbiamo il cavallo Mi parlate tutti di Sobrookhaven Kat vai Sobrookhaven Abbandoniamo il cavallo in seconda fila E che altro voglio fare amicizia? Street racers Voglio essere anch'io una street racer Ciao! Bella skin! Grazie! Come si fa a diventare street racers? Basta iscriversi Dove? Una bimba mini Casa 33 Che ansia! Devo andare nella casa di qualcuno? Armi rilevate all'aeroporto Ma che sta succedendo qua? Casa 33 Posseduto da Nemesi È letteralmente il tizio che mi ha Potevi farmela lì l'iscrizione Eccomi! Mi sa che questi mi menano Salve Ci siamo visti due secondi fa Salve Salve vorrei fare la street racer Sì va bene Ok Se ne intende di auto? Guarda! Certo! Non so niente La cosa che le riesce meglio in ciò In ciò Gareggiare e cambiare i pneumatici Non lo so Non lo so Ah ok Sapete che andrà malissimo questa cosa? Mi sto già vergognando Raduna gli street racers Facciamo una corsa Non tornare No raga non sono pronta Qual è il percorso? Ma chi sei? Tu sei carinissimo Prendiamo questa Perfetto non so uscire dal parcheggio Voglio fare la street racer Ma i brother sono partiti Boh io seguo lui C'ho un po' d'ansia Sì ma dove si va? La voglio rosa Non devo toccare Cosa spingi? Il pack delle gare È questo? No brodi Si rage quitta questo Brookhaven Si entra in un altro Brookhaven Mi scusi ma È tutto ok Ehm Non mi sembra tutto ok Oh oh Ma che fa questo? Oh 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 Stavo per dirgli bella maglietta Ma mi devi stare tre palmi lontano dalle chiappe Come ci sono finita Sulla macchina dei sceriffi così rapita Ma voi veramente giocate a sto gioco? Perché se la risposta è sì Mi dovete insegnare tutto Io non ci capisco nulla La gente è strana Qui c'è un sacco di gente Vediamo che succede Ciao Maranza Ci sono i Maranza su Brookhaven Ma veramente? Ma hanno rubato una persona 018 Neonato Si stanno tissando su Brookhaven Patati Scusa non parlo hashtag Scusate ma io adesso devo capire cosa sta succedendo Patata in un hub Fai oscesso? Almeno io ho i Robux Wow Insegnami la vita No 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 dove andate? Oh 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 Raga Sono appena stata acquistata da un Maranza Paro pesce Ma basta Ragazzi Ma voi davvero giocate a sta roba? Che hit però in realtà è una hit Vi prego voglio sapere come è iniziata Chi ha detto su mia mamma quelle cose? Ah ci sono le mamme in mezzo Immaginavo Ma perché vi insultate? Non c'ho ragione Ha iniziato sto qua Come mai litigano? Tu hai detto quella cosa su mia mamma? Ce l'hai il premium L'acca L'acca Si mette l'acca Si qual è il problema? L'apostrofo Hai capito? Ok l'ha messa Mi ha sentito Innanzitutto E fa o c'è es? Siamo su mare fuori improvvisamente Volo Non sai scrivere Fatti dare una mano dal traduttore Vabbè tu hai scritto ce l'hai Allora calmiamoci Calmiamoci Tu sei figo solo con il premium Perché sì no sì Eh? Ma i robux non valgono nulla Ma infatti diglielo Sai cosa? Su Fratello Lo so ma lui ha messo sto fatto dei robux in mezzo Mi sembra di star vedendo una serie tv E mi viene da dargli tutte le voci apposta Ma immagina litigare su robux Quindi il problema sono i robux No I robux non valgono Eh ma sono volate le mamme per cosa? Quindi Lasciamo in pace le mamme Io penso che sia polvere Bam Ah povero Pensavo Ma i robux Sì non valgono nulla Abbiamo capito patatina cucciola Mo li stendo tutti Immagina litigare per il premium Hotel casa 23 Un hotel bellissimo Noi ci andiamo Se non è bellissimo Mi arrabbio un sacco Mi sa che è carino Sì Salve Eh ma che beddi spazzesche ci sono qua Ma come si fa a fare le pose? Anch'io le voglio Salve Ma questa mamma è meno Come si fa ad avere una stanza? Sono anch'io beddi Anch'io Anch'io sono beddi Anch'io Vieni dalla beddi Beddi Eh voglio la stanza Ma che bella è sta casa comunque Però non posso cliccare nulla Non va nulla Ma che bello la doccia fatta così Capo hotel Top Dammi la stanza Per le stanze Perché mi ignorano Perché mi ha ignorato Ma quei due Calmatevi Prima sposatevi Ma ci sono i coniglietti Eh un'altra beddi Ona Enorme Aiuto E questo Ah no è sempre lei mi sa Hai capito lo stile Cosa aspettate? Venite a casa 23 Hotel bellissimo Sì ma il capo non ti considera Devo imparare a fare anche io i cartelli Così mi faccio il mio hotel Il mio hotel E ci invito a tutte le linci Che lasciano like a questo video Dobbiamo claimare questo server E riempirlo di cartelli Con beccati sta posa 28 Solo che io non so come si mettono Come si fa? No non si può E allora posa 28 No ragazzi dobbiamo andare in giro Così ti prego Non è vero si può fare Beccati sta posa 28 Stai pazzando E beccati sta posa 28 Come si fanno ad attaccare a terra? Oddio Sembra una manifestazione Metti F per salutare Ah Figo comunque È bellissima sta cosa Come si fa a metterlo giù? Non sono capace È la scatola Ma sta roba bellissima? Ah Ok Giuro che sono lenta Ma ci arrivo poi No Ma guarda L'hanno già fatto Siete dei geni Puoi scrivere Devi togliere dalla mano la scatola E c'hai ragione pure tu Ah Bellissimo Kat è stata qui Beccati Questo è tipo Beccati E stiamo posa 28 Beccati la posa 28 By Auri E beccati sta posa E beccati sta Un giorno ci creiamo proprio un rp Pazzesco Sei la mia idola Amore grazie Kat sei l'unica Con cui si può giocare Perché in che senso? Cioè è una cosa buona? Comunque è fighissimo L'altra volta siamo entrati su Brookhaven Non avevamo uno scopo Invece stavolta piano piano sto imparando Perché ho giocato un pochettino anche ieri Allora Facciamoci un bello screen Beccati sta posa 28 Così in primo piano Le sgoschi Io mi vado a mangiare un gelato da sola E vi invito a iscrivervi al canale A guardare video precedenti su Roblox E su Dress to Impress Che ne arriveranno presto altri particolari Se volete altri video su Brookhaven Fatemelo sapere con un commento qui sotto Ci inventiamo qualcosa di divertente E non dimenticate di attivare la campanellina Perché tutti i lunedì siamo in live Su questo canale Però posso dire che il mio avatar Sta venendo proprio bene Grazie a tutti